Pregate per noi fratelli, siamo al mercato di Melegnano, che il Signore possa compungere tanti cuori, gloria a Dio. Pregate per noi, abbiamo tanto bisogno, che Dio ci copra con il sangue di Gesù, alleluia. Tutto passerà in questa terra, il cede la terra passerà, ma le parole del finale dura. Amen. Glorie a Dio, alleluia. Il verbo dell'amore, Gesù ha versato il sangue sulla tua città anche per voi, gloria a Dio. Anche voi, gloria a Dio, dovete pentire i vostri peccati, non da un prete pedofilo. Amen, alleluia. Ho una chiesa corrotta, ma da Gesù Cristo nella tua camera, invoca il Signore e avrai la vita eterna. Non confessarti dal prete, è un uomo come noi. Non ci può perdonare. Gloria a Dio, benedici questa donna. Alleluia. Benedici questa donna, alleluia. I figli che Dio ci ha donato, perché la Bibbia non dice di farci prete. Amen. Gesù in Nazareno è qui in questo mercato questa mattina, per darti il messaggio di vita eterna, il messaggio dell'amore di Dio, il messaggio che può salvare la tua anima dall'inferno. Gesù Cristo è l'unica via per il cielo, la verità e la vita. E così sì, a me, a me, a me. Olo che mi ha so, il racco mi ha lasciato, la maracchiera mi ha saio. Ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, tu non puoi vivere di solo fanno. Pregate per queste anime, fratelli. Alleluia. Intercedete per queste anime perse, queste pecore smarrite. Ma c'è il grande pastore questa mattina. Alleluia. Che vuole che tu lo ricevi nel tuo cuore. Gloria a Gesù Cristo. Il messaggio di vita eterna. Gloria a Dio, sì sì. Il messaggio del mentimento, cari, qui siamo di passaggio. Alleluia. Come fu ai tempi di Noè. E sì, e sempre mangiato, non bello, si diventino. Ma poi vede il diluvio. E così avverrà. Alleluia. Ora non avverrà il diluvio. Ora arriverà Gesù Cristo dal cielo. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. A metterle fine a questo mondo. Ma il pace è corrotto. Come a sceglie. Alleluia. Gloria a Dio. Guardate quante anime. Alleluia. Ora vado lì in mezzo. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. Santo è il tuo nome. Gloria al nome di Gesù. Benedici Padre. Gloria a Dio. Fregate per noi fratelli e sorelle. Perché è un lavoro abbastanza duro. Sono molto duri di cuore qui. Però il Signore sicuramente conosce i suoi. Avrà preparato qualche cuore. Gloria a Dio. Sto raggiungendo ora mio marito in questa folla. Con i bambini. Scusi. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Pregate per queste anime. Gloria al Signore. Vecchete il Vangelo. Alleluia. Dio Padre Santo. Alleluia. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Gloria a Dio. Quante anime. Alleluia. Direi che passò. Vecchete il Vangelo. Versato e scrittune. Gesù il Messie morto sulla croce. E il tempo è il padre risuscitato. Alleluia. Il figlio il Vivo. Che ha dato la vita sulla croce. Risuscitò. Per darti una speranza. Gloria a Gesù. Per liberarti dal peccato. Per liberarti dalla morte. Gloria a Dio. Lui ha vessato il sangue anche per voi Leggi la Bibbia Cerca il Signore Gesù Cristo che ha dato la vita Per voi anche Giorgio Non sapevamo di questo incontro Ma Gesù ha preparato questo incontro Gloria a Dio Convertitevi al Vangelo Cerca il Signore Gesù Cristo Gesù disse che il Signore non cambierà più la terra Alleluia Il Rache Massaia Santo è il nome di Dio Giovanni non seguite le tenebre Non seguire il diavolo che ti porterà all'inferno Segui Gesù Cristo Segui il Figlio di Dio Gesù disse io sono la via, la verità e la vita Nessuno ammina il Padre Se non per mezzo di me Alleluia Legga ogni spirito Padre Alleluia Il Santo è il tuo nome C'è l'articolo che dice siamo libri Ed esprime il nostro pensiero Il permesso ci vuole se portiamo L'istrumento Perdona Padre Santo Questo uomo Gloria a Dio Lega questi spiriti Signore Nel nome di Gesù Nel nome di Gesù Alleluia Gesù Cristo potenza che libera Io voglio dire con tutta la Anche io conosco la legge Gloria a Dio A mezzo di riconosco la legge del Signore La Bibbia E c'è l'articolo 19 Che dice siamo libri di esprimere il nostro permesso Ha detto questo uomo Ce l'hai permesso Certo Il permesso di Gesù Cristo Cercate il Signore Convertitevi Pentitevi dei vostri peccati Anche voi giovani Gesù è la via La verità è la vita La speranza per il nostro cuore La salvezza Buongiorno Guardi non l'ho fatto perché C'è l'articolo 19 Grazie